Assessore, qual è il progetto per Largo Seneca? È un progetto di riqualificazione che è appunto voluto fortemente dall'Istituto Polo 3, dei ragazzi che volevano fare memoria di Federico Seneca. Federico Seneca fu uno dei pubblicisti più importanti del Novecento a livello internazionale. Ricordiamo semplicemente la pubblicità dei Bacchi Perugina, ma anche quella della Buitogno e non solo. I ragazzi, naturalmente, lavorando all'interno dello stesso istituto, ne hanno capito l'importanza e hanno voluto portare un valore aggiunto alla città. Precedentemente c'era una vela installata, una vela di metallo, invece noi così facendo andremo a sostituirla. Era ammalorata dalle condizioni climatiche perché un po' si era usurata con la salsedine, per cui l'abbiamo sostituita con una nuova vela luminosa di modo che sarà visibile anche la notte, con un pannello descrittivo di quello che è la vita dell'artista. E i ragazzi hanno pensato di riqualificare anche tutte quelle che sono le sedute collaterali, proprio andando ad applicare delle loro opere, le sue opere d'arte, in ordine cronologico, perché Federico veramente fece tante opere nel tempo che poi sono diventate opere che lo hanno illuminato. Questo è un bel modo di unire l'arte, i giovani, ma soprattutto di dare anche una bella dignità nella città alla memoria di un grande artista. Entro quando verrà installata? Entro la prossima settimana verrà inaugurata l'opera.